Sembra di stare a palicci, i campeli sì. Dimenticate le polemiche sul cubo di Piazza Libertà, sul tunnel, sulla ZTL, c'è un'opera che ad Avellino mette tutti d'accordo. Si tratta della nuova arteria che collega via Palatucci, dove si trova la questura con via Carlo Gesualdo nei pressi di Rione Valle. Un'oasi di pace in mezzo al caos cittadino, parcheggi, fermate dell'autobus, cestini per la spazzatura, strisce pedonali, fontanelle. Soprattutto una pista ciclabile, ampia e funzionale, con annesso parcheggio per le bici. Insomma, sembra di essere in un'altra città, ma l'opera più apprezzata è la fontana, in stile moderno, posta al centro della rotonda di via Palatucci. Di sera poi tutta l'arteria si trasforma, giochi di luce illuminano la fontana, la strada e il percorso ciclabile. E i cittadini apprezzano. Una delle cose più belle di Avellino, in effetti sperando che duri, perché è ancora poco conosciuta, quindi poco trafficata. Perché è una strada che evita il traffico e delle scuole qui di via Annarumma, sia quelle di via Colombo, e quindi è l'ideale per poter, come si dice, camminare e smaltire il traffico. Quando queste piante prenderanno piede, perché già stanno in fiore, sempre che, ripeto, non ci sia vandalismo, sarà una cosa bellissima da vedere.